Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura parliamo della situazione Covid-19. 8 italiani su 10 vaccinati entro fine settembre, lo ha affermato il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. Si passerà dai grandi hub ospedalieri alla possibilità di effettuare la vaccinazione in farmacia. Passiamo alla cronaca, duro colpo alla camorra, imbantinata, blitz al clan Amato Pagano, sequestrati più di 25 milioni di euro. Ai microfoni di TV City l'assessore alla nettezza urbana Cinzia Mirabella, che ha parlato della situazione ingombranti a Torre del Greco ed ha illustrato il nuovo piano di conferimento. Approvato a febbraio in Consiglio Comunale la mozione sulla creazione di un teatro comunale, ancora caos però sulla sede. Iniziativa benefica all'Istituto di Torre del Greco De Nicola Sasso, donati kit scolastici a tutti gli alunni. Questo ed altro, guardiamo i servizi. L'80% della popolazione italiana vaccinata entro fine settembre, l'ha affermato il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. Un segnale forte alla battaglia contro il Covid-19. Si passa dai centri specializzati ed hub ospedalieri alla possibilità di effettuare la vaccinazione grazie a medici di base, pediatri e farmacie. Attualmente in Italia 13 milioni di persone hanno effettuato il vaccino. Si parla di quasi un italiano su quattro, con oltre 22 milioni di dosi in arrivo a giugno, con la soia di somministrazione sopra le 500 mila al giorno. Per raggiungere l'obiettivo di fine settembre, sottolinea però il commissario, è necessario proseguire sulla strada intrapresa. Procedure flessibili per le prenotazioni ad agosto, continuando però a privilegiare le somministrazioni agli over 60 ai fragili. Con l'autunno servirà invece una nuova strategia. Questa macchina nei prossimi mesi deve condurre gradualmente ad una gestione ordinaria delle attività sanitarie da parte delle amministrazioni centrali e locali competenti, affermati il commissario. Sarà comunque il governo a decidere entro il 31 luglio quando dovrà stabilire se varare un nuovo stato di emergenza e per quanto tempo, attraverso un passaggio parlamentare. La volontà principale però resta quella di una somministrazione molto più capillare e prossima al cittadino. Al momento la convinzione della maggior parte degli scienziati è che l'immunità abbia una durata di circa un anno e quindi è necessario organizzarci per i richiami, dice il generale, che proprio oggi ha avuto una riunione con il Ministro della Salute e Protezione Civile su come organizzare e gestire questa nuova fase, anche alla luce delle varianti che continuano a mutare il virus. I finanziari del gruppo Investigazione Criminalità Organizzata, gli investigatori della Polizia di Stato di Napoli con il coordinamento della Direzione degli Strettualanti Mafia parte europea hanno dato esecuzione tra le province di Napoli e Caserta a un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 31 soggetti, 22 in carcere e 9 gli arresti domiciliari gravemente indiziati di appartenere o di aver favorito il clan Amato Pagano. Associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso, questi i reati a vario titolo contestati agli indagati. Il clan Amato Pagano, nato dalla scissione del clan di Lauro, avrebbe ininterrottamente continuato ad avvalersi della propria forza di intimidazione, commettendo una pluralità di reati, omicidi, estorsioni, spazio di sostanti stupefacenti, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, riciclaggio, per mantenere il controllo del territorio nei comuni di Melito, Mugnano e Arzano, del mercato all'ingrosso della cocaina nell'intera area nord di Napoli e delle estorsioni nei comuni di Melito, Mugnano, Casavatore e Arzano. Grazie ad un'organizzazione capillare, infatti, il clan sarebbe riuscito a gestire una complessa filiera di narcotraffico, soprattutto attraverso il controllo delle diverse piazze di spaccio operanti nei territori ricadenti sotto la sua egita criminale. Le risultanze investigative restituirebbero una struttura criminale di tipo verticistico. Le contestuali indagini svolte dagli specialisti del GICO avrebbero portato alla luce l'esistenza di una forma di controllo presorché totale del territorio melitese da parte del clan grazie anche alla diretta partecipazione alle attività criminali del presidente dell'ICAST, prima ASCOM, di Melito, associazione rappresentativa di plurime categorie commerciali, industriali e artigianali, operanti nella città che, proprio in virtù di tale ruolo, era nelle condizioni di favorire il clan attraverso i rapporti con commercianti e imprenditori. Infatti, proprio presso la sede dell'associazione si sarebbero tenuti dei summit di camorra finalizzati a stabilire le strategie criminali da adottare. Gli indagati sarebbero coinvolti in una massiccia e capillare attività estorsiva posta in essere a tappeto nei confronti di operatori commerciali melitesi, circa 500 negozi ogni anno, oltre che nel diretto interesse del clan e nella gestione dei remunerativi servizi di onoranze funebri attraverso la selezione di specifiche ditte con le quali entrava in quota, consentendo loro di operare di fatto i regime di monopolio. Da segnalare una particolare forma di estorsione che si aggiungeva rispetto a quella classica, posta in essere attraverso l'imposizione delle tre rate annuali, coincidenti con le festività di Natale, Pasqua e Ferragosto, camuffata dall'acquisto in effetti obbligato di gadget natalizi. Dalle indagini sarebbe infatti emerso che nella proposta rivolta ai commercianti vittime questi potevano ricevere a fronte della somma estorta una fattura per scaricare il costo dell'illecita devoluzione e questo sarebbe servito, secondo gli indagati, a far accettare più facilmente l'imposizione. La fattura sarebbe stata infatti emessa da una ditta compiacente che una volta ottenuto il pagamento tramite bonifico avrebbe provveduto a restituire la somma in contante al clan, trattenendo per sé un importo corrispondente all'IVA. Nel corso delle inchieste è anche emerso il coinvolgimento di due appartenenti alla Polizia Municipale di Melito di Napoli che avrebbero contribuito ad ampliare il controllo economico del territorio da parte del soldarizio criminale. Infatti i due pubblici ufficiali avrebbero eseguito accessi presso attività commerciali o cantieri edili contestando delle irregolarità amministrative, alle quali non seguiva alcuna verbalizzazione in quanto, previo compenso per ogni intervento portato a termine, i due suggerivano alle vittime la possibilità di rivolgersi ai rappresentanti del clan per evitare conseguenze pregiudizievoli, ampliando così il novero dei soggetti periodicamente storti. Sequestrata anche la sede dell'ICAS di Melito di Napoli, considerata il quartiere generale di gran parte dei membri del clan e luogo di riunione, di concentrazione, di deliberazioni criminali ed incontro con le vittime designate delle istruzioni, nonché tra Campania, Molise ed Emilia Romagna, 18 aziende, 5 delle quali operanti nel settore delle onoranze funebri, 12 tra fabbricati e terreni, 34 autoveicoli, denaro su oltre 300 rapporti finanziari, per un controvalore di circa 25 milioni di euro. Dei soggetti destinatari di misura catolare, 3 sono beneficiari di reddito di cittadinanza, mentre ulteriori 5 risultano inseriti in nuclei familiari precettori del beneficio e pertanto verranno segnalati all'Inps per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Ancora caos a Torre del Greco sui rifiuti, soprattutto per quanto riguarda gli ingombranti. Chiuso il centro di raccolta alla Santissima Trinità o almeno aperto solo per determinate tipologie di rifiuti? I torresi sono confusi e non sanno bene dove e come conferirli. Sì, in effetti ci sono stati una serie di disservizi purtroppo dovuti a una comunicazione a noi pervenuta soltanto venerdì scorso, dove la ditta Buttle ci informava che non aveva più intenzione di avere quel punto aperto per una serie di problematiche derivanti dalla locazione di ingombranti al di fuori del sito. Quindi cittadini che andavano a sversare a tutte le ore, anche in orari non consentiti, che ingombravano tutta l'area non autorizzata e quindi questo comportava poi una serie di problemi. Ci comunicava con scarsissimo preavviso dal venerdì al lunedì che questo centro sarebbe stato chiuso e quindi anche una sorta di difficoltà per noi amministratori a trovare una soluzione alternativa. Abbiamo chiesto quindi una proroga di questo servizio affinché non si creasse il caos, cosa che poi è avvenuta ugualmente perché poi tra l'autorizzare e non autorizzare quel punto ha fatto sì che ci fossero una serie di cartelli e quindi una disinformazione per coloro che andassero lì a depositare ingombranti. Speriamo però nei prossimi giorni di trovare comunque un sito alternativo perché quello sarà un sito provvisorio. Non potrà avere una capienza tale da poter ospitare tutti gli ingombranti che purtroppo vediamo ogni giorno su Torre del Greco. In questi giorni io vedo materassi ovunque, vedo veramente traslochi fatti in punti desolati abbandonati della città. La cosa è vergognosa, è scandalosa e va risolta. Va risolta con telecamere, va risolta con i controlli. L'altro giorno proprio è stata smontata una telecamera di proprietà del Comune, è stata sradicata, non so come abbiano fatto. Stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze, le nostre energie. Nei prossimi giorni cercheremo di fare informazione, tanto è vero che la settimana prossima, lunedì, stiamo organizzando per San Giuseppe alle Paludi un punto di incontro e di controllo. Quindi l'amministrazione affiancata dalla Polizia Municipale e da volontari cercherà di educare, di informare la popolazione affinché non avvengano questi sversamenti. Vogliamo spiegare ai torresi le modalità di conferimento e gli ingombranti almeno in questo periodo? Gli ingombranti finché non troveremo un sito alternativo continuerà a essere la Santissima Trinità per gli ingombranti. Sempre il solito orario, dal lunedì al sabato, sempre dalle 8 alle 16, mentre i RAE vanno su prenotazione, quindi chiamando il numero verde. Dobbiamo trovare siti che non siano troppo isolati ma siano vicino al centro per dare un servizio e non un disservizio. Quindi molte volte ci troviamo in contrasto con magari scuole, ci troviamo con parrocchie, con associazioni anche residenti, un po' come le isole ecologiche. Oggi tutti quanti le rivorrebbero, però io ricordo che a quei tempi molti lamentavano il fatto di averle vicino, perché comunque è un problema, ma è un problema se non fatte a dovere, seguendo regole, norme. Noi vorremmo realizzare un punto dove non si conferisca l'umido, ma soltanto ingombranti, materiali che non emanano cattivi odori, quindi non dovrebbero essere un problema laddove le andiamo a situare. Valuteremo i vari siti, sicuramente sempre nell'interesse del cittadino. Verso un teatro comunale a Torre del Greco, ma è guerra sulla sede. Il Consiglio Comunale a febbraio approvò la mozione sul teatro comunale di Michele Langella, presidente del gruppo consigliare Alleanza Democratica per il fare civico, protocollata a firma congiunta dei consiglieri Aniello Formisano, Anna Laura Guarino e Lucia Vitiello. La proposta era quella di munire la nostra città di un polo artistico e culturale, da utilizzare per eventi e progetti. In meno di due settimane il dirigente all'urbanistica comunicava la piena fattibilità del cambio di destinazione ed uso dell'ex pretura, da anni inutilizzata. Ciò nonostante, l'Aggiunta ha provato non solo di indire una manifestazione di interesse a vendere immobili donne al caso, ma ha destinato anche 1.000 euro per la sua realizzazione. Immediata la polemica, soprattutto guidata dal Movimento 5 Stelle cittadino, ci si domandava come si facesse a pensare di investire risorse per l'acquisto di un'immobile con strutture inutilizzate e finanziamenti cospicui per la realizzazione del progetto. Il 13 febbraio 2020, contestualmente alla mozione approvata dal Consiglio, è nato anche il Comitato Insieme per un Teatro, un'aggregazione spontanea ai 15 realtà culturali associative che rappresentano, attore del greco, il mondo del teatro, della danza e della musica. Come di facile intuizione, la mission del Comitato è la creazione di un teatro stabile e comunale a Torre del Greco, che possa essere una casa per le tante realtà artistiche. Il Comitato si è tenuto fuori dalla carella inerente alla sede, ma ha ricordato che per creare una simile struttura non basta attrezzare un palco e delle poltrone, ma bisogna considerare spazi per le prove, un parcheggio e tanti altri servizi per gli operatori e per gli spettatori. Anche il PD si è dichiarato favorevole alla creazione del teatro. In una nota di pochi giorni fa, il partito si associava alla richiesta di utilizzare strutture già esistenti. Saremo attenti, si legge nel comunicato, affinché non si facciano scelte errate, come già fatto in passato, come l'acquisizione dell'opera incompiuta dell'ex sementificio. Siamo per la buona cultura, che serva anche alla valorizzazione e l'utilizzo dei beni comunali. Anche Articolo 1 batte sul riciclo di immobili in disuso. Il partito si dichiara d'accordo con la proposta dei consiglieri 5 Stelle, Salerno Vincenzo e Borriello Santa, affinché la ex procura diventi teatro comunale polo-culturale. Sarà vigile sui successivi atti che questa amministrazione comunale produrrà in favore dei privati. Preside Alessandra Tallarico, un'iniziativa importante per la scuola deliberata dal vostro istituto. Grazie all'Agenzia La Ginestra verrà effettuata una donazione ai ragazzi diversamente abili della scuola. L'Agenzia La Ginestra Assicurazioni ha pensato proprio al nostro istituto per questa donazione di kit di quaderni rivolte ai nostri alunni diversamente abili. Io infatti ringrazio il dottor Fabrizio Cagliazza per aver pensato a noi. L'Agenzia si rivolge spesso al sociale, a sostegno delle famiglie e degli alunni più fragili e quindi supportando le categorie più deboli. Come i ragazzi e le famiglie potranno ritirare questi kit? Sì, attraverso dei coupon che sono predisposti dall'Agenzia La Ginestra Assicurazioni. Questi coupon saranno consegnati all'istituto e l'istituto consegnerà alle famiglie degli alunni questi coupon che poi andranno direttamente a ritirarli presso l'Agenzia in via nazionale. Quindi abbiamo organizzato tutto al meglio anche per agevolare le famiglie, per non avere dei disagi. I kit donati almeno daranno un sostegno, un supporto alle famiglie anche per l'avvio dell'anno prossimo, perché comunque sono diversi quaderni, quindi non riceveranno soltanto un quaderno ad alunno, ma è un kit corposo di diversi quaderni, sia per la lingua italiana che per la matematica. Famiglie che hanno già dovuto affrontare grosse difficoltà in questo anno di pandemia? Sì, anche perché molti alunni diversamente abili erano considerati anche fragili, quindi hanno dovuto seguire la didattica a distanza, non sempre in presenza. È vero che ci sono stati qui nella Regione Campagna diverse chiusure, quindi didattica a distanza per tutti, al di là degli alunni fragili. Le difficoltà e i disagi sono stati maggiori per questa categoria di alunni. Quindi io ringrazio nuovamente Fabrizio Cagliazza per aver pensato al nostro istituto e ci saranno sicuramente altre iniziative come queste. Dottor Fabrizio Cagliazza dell'Agenzia La Ginestra. La sua agenzia si spende tanto per il sociale. Abbiamo inteso fare questa donazione che è stata, siamo lieti che sia stata ben accolta dalla dirigente, dottoressa Dallarico, perché vogliamo dare un segnale, un segnale che è quello anche di vicinanza, perché è vero che le compagnie di assicurazioni sono viste come deputate quelle a vedere il business, ma hanno un ruolo forte, penso che abbiamo un ruolo forte anche nel sociale. Quindi questo è un modo per essere vicino anche alle famiglie di questi bambini, insomma più deboli e in qualche modo, anche se un piccolo gesto, ci avvicina sempre di più a quello che penso sia il nostro ruolo che dobbiamo assolvere nel migliore dei modi. Avete in cantiere altre iniziative come questa? Assolutamente sì, ma magari anche la stessa, pensiamo anche di estenderla, vediamo un attimo che i risultati produce e poi vogliamo estenderla e pensarne anche ad altre. Iniziative successive che seguiranno queste ce ne saranno, già abbiamo in mente a partire dal nuovo anno scolastico qualche altra cosa da organizzare con dottoressa Dallarico, il nostro staff. Grazie per la cortese attenzione, per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciola tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. Grazie e al prossimo appuntamento con informazioni di TV City. Grazie a tutti! Grazie a tutti!